ATEM Mini Pro versione ISO. Eh sì, perché in questo video che abbiamo realizzato con Alfredo Guerra del canale Chimica Quotidiana vi abbiamo raccontato del suo nuovo giocattolino, ovvero una ATEM Mini Pro, che è fondamentalmente una scheda di acquisizione, cioè un affare a cui noi colleghiamo delle telecamere e che ci permette di registrare dei video, in autonomia oppure col computer. E mentre registravamo questo video ci siamo proprio resi conto che stava uscendo esattamente in quei giorni una nuova versione di ATEM Mini, in particolare l'ATEM Mini Pro ISO, che aggiunge delle funzionalità molto interessanti al modello che vi abbiamo presentato. E allora che cosa potevo fare io per voi se non trovarvi qualcuno che l'ATEM Mini Pro ISO ce l'ha? E allora io ve l'ho trovato, perché la persona in questione è Andrea Lombardi. Vi invito a seguire il suo canale, che vi linkerò ovviamente nella descrizione di questo video, se vi interessa l'attualità, ma anche se vi interessa capire come Andrea utilizza l'hardware, di cui vi parlerà in questo video. E allora vi lascio tra pochissimo alle parole di Andrea, subito dopo avervi detto che durante il video Andrea citerà diverse volte il famosissimo DaVinci Resolve, che è il software di video editing gratuito di Black Magic Design, che sono gli stessi di ATEM Mini, quindi insomma si gioca sempre in casa. E ci tenevo a dirvi che se questa cosa, se questo software vi è totalmente oscuro, ho realizzato proprio da poco un corso totale, sono quasi due ore di corso, che vi prende per mano se non avete mai visto un software di video editing in vita vostra e vi permette di usare uno di quelli che oggi è riconosciuto come uno dei più professionali sulla faccia della Terra. Per cui date un'occhiata anche a questo, vi linko tutto nella descrizione del video, quindi non vi preoccupate, trovate tutti i link a tutte le cose che vi ho citato qui sotto, e direi di andare a guardare come si è comportato in questa recensione esperenziale Andrea Lombardi. Soltanto un piccolo disclaimer, Andrea è tremendamente entusiasta, vi faccio un piccolo spoiler di questo hardware, è veramente molto contento del suo acquisto, ma non è una recensione in nessun modo sponsorizzata, non che ci sarebbe nulla di male, ma purtroppo non è una di quelle Black Magic Design, se sei in ascolto, purtroppo non è sponsorizzata. Per cui il suo entusiasmo, quello che percepirete è genuino, non è una pubblicità. L'unica cosa che troverete sarà il link di Amazon affiliato nella descrizione del video per sostenere anche gli sforzi che facciamo con questo canale. Tra l'altro trovate anche i marcatori di capitolo nella descrizione, quindi se volete passare alla parte direttamente che vi interessa, potete cliccare direttamente sul numerino e saltare al capitolo interessato. Fondamentalmente i capitoli saranno tre, una descrizione dell'Ate Mini Pro ISO, soprattutto concentrandoci sulle differenze rispetto agli altri modelli che abbiamo già trattato nel video precedente, un piccolo trucchetto sul chroma key, quindi sull'uso del green screen, e infine Andrea con un grandissimo sforzo interiore, con non poca fatica personale, è riuscito anche a trovare qualche difetto a questo modello. Quindi se state valutando l'acquisto non perdetevi la parte finale con i difetti. E dai, allora direi davvero di buttarci nel suo video, andiamo a vedere un pochino che cosa ci racconta Andrea. Ciao Andrea, grazie per avermi ospitato sul tuo canale, sono molto felice di essere qua per parlare con voi di tecnologia, cosa che mi interessa moltissimo, ma riesco a fare molto poco, perché mi occupo d'altro qui su YouTube, parlo di politica e attualità, e per fortuna riesco a trovare ospitalità nel tuo canale, dove sono molto felice di parlarvi oggi di un oggetto che secondo me è la svolta, la vera svolta. Come vi ha già detto Andrea, questo video non ha la pretesa di essere una recensione completa di questa scheda di acquisizione che si chiama Atem Mini Pro ISO, o AISO, che dir si voglia. È piuttosto, il mio punto di vista, un'aggiunta al video che già trovate su questo canale in cui viene presentata l'Atem Mini Pro, un video che vi consiglio di guardare prima di guardare questo, perché non starò a ripresentarvi tutte le funzioni di questa scheda di acquisizione. Dopo il rassodato che sappiate di cosa si tratta, di come funziona e di che cosa serve questo Atem Mini, voglio però raccontarvi le straordinarie, straordinarie dal mio punto di vista, caratteristiche di questa Atem Mini Pro ISO, che è un modello di recentissima uscita. Sono riuscito ad averne una appena dopo la sua uscita, ma ce n'erano in giro pochissime in Italia ancora. Non so adesso se si trovino con un po' più di facilità, ma sono molto felice di averci messo le mani sopra, perché questa cosa è in grado di fare risparmiare una quantità di tempo che capirete soltanto tra pochi minuti, quando vi spiegherò che cosa la differenzia dalle altre versioni. Allora, faccio un breve recap, ricapitoliamo molto velocemente di che cosa stiamo parlando e come sono disponibili questi oggetti. Allora, parliamo di un oggetto che fa tante cose, principalmente possiamo dire che è uno switch video, e cioè è un oggetto che consente di fare la regia tra diverse camere, o in generale tra diverse sorgenti video. Quindi, eccola qui, è questa bella scatola qui, ha quattro ingressi HDMI più due ingressi microfonici jack che non sto utilizzando, ha un'uscita HDMI e, se vogliamo, un'uscita USB. Ok, la funzione base di questa roba è poter switchare da una camera all'altra semplicemente schiacciando un bottone. Quindi entrano quattro sorgenti, schiacciando uno bottone o un altro, seleziono quale sorgente deve andare verso l'uscita. Quindi questo segnale lo posso registrare oppure lo posso proiettare su uno schermo. E chi osserva questo segnale, che sia un registratore o un video, uno schermo, un proiettore, qualsiasi cosa, vedrà ciò che io decido debba vedere schiacciando questi pulsanti. Questo è quello che fa sostanzialmente la versione base di questo oggetto, che è l'Atem Mini liscio, diciamo Atem Mini, punto e basta. Poi si aggiungono altre funzionalità. In realtà la sto tagliando con l'accetta. È chiaro che oltre a selezionare la sorgente, cosa che potrebbe fare banalmente un interruttore, ci sono dispositivi su Amazon che costano pochi euro, che vi consentono di avere tanti HDMI in ingresso e uno in uscita, e con un bottone cambiate la sorgente. È chiaro che comunque anche la versione base di questa scheda fa altre cose. Per esempio è in grado di introdurre delle transizioni nel momento in cui scegliete diverse sorgenti. È in grado di gestire l'audio di queste sorgenti, quindi entra il video, ma entra anche l'audio. Si può scegliere quale, ad esempio, sorgente audio utilizzare, che può anche essere diversa da quella che si sta utilizzando in quel momento come sorgente video. Ha la frunzione di Chroma Key, quindi il famoso green screen, di cui vi devo assolutamente svelare almeno una chicca alla fine di questo mio intervento, perché attenzione, non è solo la funzione che permette di mettersi un telo verde dietro e farsi vedere nel video da qualche altra parte. No, no, no. Con questa cosa si può fare molto di più e ha la possibilità, per esempio, di gestire picture in picture, cioè di far vedere magari l'ospite che si sta intervistando in un piccolo riquadro la camera che invece inquadra l'intervistatore. Quindi questa è la versione base, la versione Atem Mini. Poi è stata creata da Blackmagic, l'Atem Mini Pro, che oltre a queste cose che vi ho raccontato, introduce la possibilità di collegare un hard disk USB a questa scheda e registrare direttamente il video, l'output, che si chiama program, sull'hard disk USB, come per esempio può essere questo o qualsiasi altro disco, e aggiunge anche la possibilità di utilizzare questa scheda con un cavo Ethernet, attaccandola a Internet e utilizzandola come strumento per andare in live. Quindi gli mettete i parametri del vostro canale YouTube o Twitch o quello che è e lei da sola senza attaccarsi a nessun computer è in grado di portarvi in live. Ecco, io inizialmente avevo comprato la versione base perché di registrare non ne avevo necessità dal momento che vi faccio vedere. In realtà io registro con questo oggetto che potrebbe sembrare banalmente un field monitor quindi uno schermo da campo ma in realtà è un registratore HDMI quindi entra l'HDMI e lo registra su una scheda SD che sta qua dentro e soprattutto ho un computer sempre vicino quindi non ho la necessità di usare questo oggetto per andare in live. Quando però è uscito l'Atem Mini Pro ISO che aggiunge altre funzioni beh, ho capito che era la svolta e lo strumento per me definitivo per poter produrre video con un tempo di realizzazione per me assolutamente infinitesimo rispetto a quello che poteva servire senza queste funzionalità di che cosa si tratta? Allora l'Atem Mini Pro quello che vi è stato presentato nell'altro video che trovate su questo canale sì è in grado di registrare su un hard disk ma registra un'unica traccia cioè l'uscita l'output quello che si chiama program ovvero il risultato di ciò che voi selezionate schiacciando i bottoni che vanno dall'1 al 4 registra il video finale già tagliato come lo avete tagliato mentre veniva realizzato quindi se siamo in due per esempio con due camere io sto intervistando qualcuno e preso dal discorso mi perdo un attimo e mi dimentico di schiacciare il bottone 2 per inquadrare lui mentre sta parlando non c'è niente da fare così rimane il file finale e quell'errore rimarrà a vita all'interno di quel video proprio perché viene scritto sull'hard disk un video che è già il risultato delle nostre azioni è già l'output la temini pro iso invece consente di registrare quattro tracce video cioè separatamente registra tutti i flussi hdmi in ingresso il che significa che se avete fatto un errore uno può ipotizzare beh posso prendere la traccia che mi serve e portarla sul sul mio bel file che che ho registrato e con un po' di tagli ai cuci insomma andare a correggere quell'errore già questa funzionalità aveva iniziato a rendermela un po' interessante perché dico almeno posso anche dimenticarmi ipoteticamente di usare i bottoni mentre sto parlando con qualcuno però ho i miei quattro file li butto dentro il mio programma di editing come multicamera e quindi poi vabbè ci metterò un po' di più ma con pochi click posso andare a tagliare il discorso e scegliere se far vedere una camera oppure l'altra quindi il fatto di avere quattro tracce video registrate separatamente è un qualcosa che già potrebbe di per sé rendere più veloce l'editing del video e rendere il video finale più preciso perché lo posso comunque editare in un secondo momento avendo le tracce separate cosa che l'atem mini pro non mi consente di fare e non c'è modo di farlo perché non c'è modo attaccandola al computer di vedere i quattro ingressi separatamente viene visto e questo vale anche per l'iso un ingresso webcam unico che è il risultato della fonte che io seleziono con i bottoni mentre sto utilizzando questo strumento in più però questa scheda produce anche un file di montaggio del software da vincere resolve cosa significa significa che questo da solo rende questo prodotto la svolta di cui che tutti stavamo aspettando ovvero oltre a registrare l'output oltre a registrare separatamente le quattro tracce vi produce anche un file di montaggio in cui in ogni punto in cui avete cliccato l'uno o l'altro bottone c'è un taglio e comincia la nuova clip e se voi avete sbagliato un taglio magari nella tempistica vi basterà prenderlo trascinarlo per spostarlo dei secondi di cui avete necessità di cambiarlo ed ecco fatto il vostro video è pronto il che significa che durante un'intervista se avete un'altra persona davanti sbaglierete il 30 40 il 50% dei tagli beh vi basteranno pochi secondi in fase di post produzione per poterli sistemare ma per spiegarvi di che cosa sto parlando ve lo faccio molto banalmente vedere praticamente questo è il mio computer e questa cartella è un file di progetto che vi ho prodotto appena prima di girare questo video ho utilizzato l'atem mini pro iso per registrare una sequenza dove ci sono io che saluto e dove ogni tanto switcho sulle altre fonti hdmi quindi vedete me poi con la transizione passo alla fonte di questo computer stesso poi passo alla seconda camera poi passo di nuovo a me che saluto e poi passo di nuovo al computer con me vedete all'interno del piccolo riquadro con il picture in picture e questa è la quarta fonte cioè il secondo computer che ho attaccato che in quel momento era in stand by questo è il file che vi produrrebbe se questo aggeggio fosse l'atem mini pro e non l'atem mini pro iso cioè se quello che avessi davanti fosse l'atem mini pro questo sarebbe il massimo risultato che potreste avere cioè il video già pronto e pronto da essere caricato su youtube salvato sul vostro hard disk ma siccome questa è l'atem mini pro iso vi produce anche altre cose questa è la cartella che ho estratto direttamente dall'hard disk innanzitutto ci sono tutte le fonti audio separate quindi avete l'audio della camera 1 l'audio della camera 2 della camera 3 della camera 4 questi primi 4 ovviamente arrivano delle fonti hdmi e poi avete gli audio separati dei due microfoni ci sono vi ricordo due ingressi microfonici in formato jack da 3 e mezzo che io non uso ma che potenzialmente possono essere collegati a delle fonti audio e quindi queste tracce vengono salvate separatamente inoltre c'è una seconda cartella video iso files e vedete avete uno questo è la traccia di tutto quello che fa la camera numero 1 anche nel momento in cui io avevo selezionato sull'atem delle uscite degli ingressi diversi infatti vedete che dura esattamente come il video totale e in alcuni momenti ci sono io che cambio non guardo in camera perché sto cambiando sto selezionando fonti diverse quindi avete tutta la traccia della camera 1 tutta la traccia della camera 2 non ho trovato nessuno che mi desse una mano e che si mettesse lì per fare la comparsa quindi abbiate pazienza c'è solo il microfono quando propongo a qualcuno di venire ad aiutarmi per fare un video scappano sempre tutti giustamente poi abbiamo la camera 3 questo è tutto il flusso della camera 3 e abbiamo la camera 4 che è il computer in stand by che è tutto il flusso della camera 4 questi 4 file potrebbero come vi dicevo prima essere buttati dentro un software di montaggio durano tutti esattamente lo stesso tempo quindi possono essere addirittura messi uno sopra l'altro e a mano potreste tagliare in ogni momento per decidere che cosa far vedere allo spettatore ok oppure potete usare come in final cut ma penso in qualsiasi software di editing la funzione multicam e in pochi secondi riuscireste a realizzare i tagli ma non finisce qui e questo bellissimo prodotto produce anche questo file che si chiama untitled drp ora questo file drp non è altro che un progetto di da vinci resolve è un progetto di da vinci resolve che adesso vi faccio vedere perché il risultato è straordinario ed è questa roba qui eccolo qui io l'ho già aperto vedete che ci sono io che saluto poi c'è una transizione con vedete le due tracce che si mischiano c'è la luna che sarebbe lo sfondo del mio computer c'è la traccia numero 3 poi c'è un'altra transizione vado alla camera 2 poi c'è un'altra transizione ci sono io che saluto e poi qua siccome a un certo punto gli ho detto di non mettere più transizioni morbide ma di fare un cut c'è un cut che va alla camera 2 poi torna al computer e poi va al secondo computer quindi con lo screensaver è esattamente il file di output che vi ho fatto vedere all'inizio cioè quello che l'atem mini pro avrebbe semplicemente registrato vedete eccolo qui ve lo ritrovate pari pari qui su da vinci resolve con però il vantaggio che se avete sbagliato qualcosa guardate quanto è semplice ho tagliato troppo presto beh prendo il taglio e lo sposto più avanti e io adesso avrò la clip dove ci sono io che saluto che dura un po' di più vedete mentre si accorcia la clip della seconda camera che in questo caso in realtà è il computer ma non solo posso decidere di eliminare questa transizione che come vedete è inserita come transizione proprio del software di montaggio di da vinci resolve quindi posso decidere di eliminarla trasformando quel cambio di camera da transizione morbida in cut e quindi boom eccolo qui avete capito quindi posso anche decidere ovviamente di non spostare le due cose ma di giocarmela un po' come voglio cioè di ampliare questa clip come mi pare e piace allungando la durata totale del video capite voi che questa cosa è la svolta assoluta per chi deve realizzare tanti video in poco tempo per chi magari ha un ospite come me qui che parla all'altro tavolo con la camera numero due e che sa benissimo che essendo da solo certo potrà essere abile quanto vuole con le dita nello schiacciare il pulsante 1 2 il 3 o il 4 ma qualche taglio lo sbaglierà ma questo non è un problema perché i tagli giusti rimarranno corretti così come erano stati fatti in fase di realizzazione del video mentre i tagli sbagliati con DaVinci Resolve in un attimo si sistemano e dopodiché se non volete utilizzare DaVinci Resolve come software di montaggio e di editing video perché magari ne usate un altro a quel punto vi basterà sistemare i tagli esportare il file del video con i tagli corretti e poi editarlo magari con il vostro software preferito si può fare quello che si vuole ma il fatto di avere un file di montaggio come questo è qualcosa che secondo me cambia le regole del gioco chiaro se voi utilizzate questa scheda per fare delle live probabilmente questa funzionalità non vi servirà perché questo prevede il fatto che registriate il video comunque ci sia una fase di editing ancorché molto veloce come vi ho fatto vedere e poi carichiate il video le live saranno gestite sempre con le tempistiche di chi schiaccia i tasti ma per chi deve realizzare video montati e ha a disposizione poco tempo tempo che si riduce sempre di più e soprattutto si riduce quando aumenta il numero di video di realizzare questa funzionalità secondo me vale da sola tutta la spesa ecco vi do mio parere personale visto che questa non è una recensione oggettiva in cui devo dire con distacco scientifico le cose vi dico secondo me la versione con l'arrivo di questa Pro ISO la versione Pro perde un po' di senso perde un po' di senso perché il fatto di poter registrare il program quindi l'uscita HDMI insomma si può essere interessante però di fatto è un qualcosa che si può realizzare già attaccando la scheda al computer o meglio ancora come vi ho fatto vedere come faccio io attaccandola a un registratore HDMI questo peraltro garantisce la massima qualità in termini di resa del prodotto video perché passare per l'USB e registrare col computer porta sempre a una certa perdita di qualità quindi io per chi può consiglio sempre di utilizzare questa soluzione perché secondo me a mio avviso è la migliore certo questo quindi l'ISO lo può fare il PRO lo può fare però non dà tutti i vantaggi dell'ISO l'ISO invece per chi deve montare video è qualcosa che rappresenta secondo me un oggetto che vale la pena prendere in considerazione e secondo me può davvero essere qualcosa che ci permette di produrre una gran quantità di contenuti di video con uno sforzo che come capite come intuite diventa estremamente piccolo ma a questo proposito voglio farvi un regalino voglio raccontarvi una cosa che nel video relativo all'ATEM Mini Pro è stata un po' buttata lì ma secondo me senza dire esattamente tutto quello che può fare e parlo ovviamente della funzionalità key il chroma key il green screen ok quella funzione che siamo abituati a vedere magari in quegli youtuber che vogliono farsi vedere da altre parti quindi si mettono il famoso telo verde dietro e proiettano su quel telo in post produzione di solito quello che vogliono ecco questa scheda ha la funzionalità chroma key integrata che cosa significa significa che certamente si può fare quello che ho appena detto cioè si può registrare con un video con un telo verde dietro di sé e proiettare su questo verde ciò che si vuole un'immagine un altro video eccetera 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 ma attenzione considerate che il chroma key su questa roba su questa bella scheda significa che ognuna delle quattro tracce può essere sovrapposta a qualsiasi delle altre e non necessariamente quello con il verde devo essere io cioè posso far sì che ci sia una sorgente tra queste quattro che abbia effettivamente degli sfondi colorati ho detto verde fino adesso perché tradizionalmente si usa il verde però vi ho fatto un esempio tra l'altro utilizzando il rosso perché a me piace insomma non utilizzare ciò che sembra essere lo standard quindi il chroma key può essere impostato su qualsiasi colore io in questo esempio vi faccio vedere questo file di Keynote quindi powerpoint se preferite è il powerpoint del mac in cui vi metto quattro slide una due tre e quattro con lo sfondo rosso e un quadrato bianco facciamo finta che lo sfondo rosso sia esattamente quello che è cioè lo sfondo rosso ma facciamo finta che il quadrato bianco sia per esempio non lo so qualche commento che avete ricevuto sotto i vostri video l'avete screenshotato e lo avete messo lì facciamo finta in questo gioco che il vostro scopo sia realizzare un video di Q&A quindi prendere dei commenti dei vostri utenti e dei vostri scritti e commentarli in un video normalmente cosa fareste? vi scrivereste i commenti su un foglio di carta li leggereste nella testa e parlereste alla camera cioè direste ah Giorgio mi ha detto che e rispondereste a Giorgio poi Luigi ha detto invece ha scritto ha commentato che e in post produzione dovreste prendere questi commenti scrissottati metterli nei punti giusti tagliarli quando finite di parlare di quel commento e poi inserirne un successivo alla fine esportando il video e caricandolo su YouTube per quanto poco ci voglia ci vuole del tempo per mettersi lì tagliare il commento nel punto giusto mettere il successivo e poi esportare tutto considerate che più livelli inserite in un file di editing video più l'export e il rendering saranno lunghi ok? anche se si tratta di roba statica quindi di immagini che vengono inserite lì comunque necessitano di tempo per essere elaborate quindi tante immagini tanto tempo per inserirle più tempo per esportare il file come si può risolvere questo problema con il nostro Atem Mini e su questo vi possono aiutare tutte le versioni dalla base dall'Atem Mini all'Atem Mini Pro all'Atem Mini Pro ISO perché tutte e tre hanno la funzionalità Chroma ora per impostarla serve utilizzare il software di gestione di questa scheda su cui non mi sono soffermato oggi e su cui non mi soffermerò semplicemente perché è stato già trattato nel precedente video e quindi non mi sembrava il caso di raccontarvelo da zero comunque tra le funzionalità che non sono state fatte vedere ed era necessario non farle vedere tutte perché sennò il video sarebbe durato giorni e giorni e giorni comunque tra le varie funzionalità che non sono state citate c'è questa qui del Chroma Key che è impostata da questa scheda vi permette di dire qual è la sorgente da cui prelevare il video che ha un Chroma insomma che ha un Key che deve essere utilizzato e a quel punto vi basterà poi andare qui sull'ATEM sulla scheda e premere il pulsante ON per farlo funzionare ora io gli ho detto che la sorgente vedete è la Camera 3 la Camera 3 sarebbe questo computer quindi quello che state vedendo voi e in più gli ho detto che il colore da prendere è il rosso qui come si fa basta cliccare e ci si sposta all'interno di questo di questo quadrato qui che rappresenterebbe l'intera area quindi io mi sposto con questo color picker praticamente vado a prendermi il rosso e a questo punto lui sa che il rosso è il suo colore chiave quello che faccio adesso è andare su questo computer e proiettare a schermo pieno il mio bel prodotto insomma la mia bella presentazione con sfondo rosso e quadrato bianco che è il mio commento torno sulla Camera 1 quindi ci sono io che parlo e schiaccio ON sulla scheda quello che succede è quello che vedete e cioè lui ha tolto il rosso perché è il colore che gli ho detto essere quello che deve prendere in considerazione come colore chiave per questa operazione e ha lasciato soltanto il bianco che ora è banalmente un quadrato bianco ma di base può essere quello che volete voi può essere una grafica che magari caratterizza quel momento del video quindi c'è un titolo un capitolo di quello che state dicendo oppure può essere effettivamente un commento nel nostro Q&A che stiamo realizzando ma con la tastiera si schiaccia con la freccia basso alla slide successiva ovviamente posso anche permettermi con PowerPoint ma adesso sto facendo questo esempio molto basilare con delle delle slide che non sono animate posso inserire anche delle animazioni all'interno di Keynote o di PowerPoint o di quello che voglio e quindi posso andarmi a giostrare questa cosa come voglio parlare di un commento parlare dell'altro e andare avanti e indietro come mi pare nel momento in cui voglio smettere basta schiacciare off sulla funzionalità del Key ed eccomi che sono di nuovo io con la mia camera senza null'altro avete capito come funziona questa roba qui è qualcosa di assolutamente secondo me fantastico e questo è solo un esempio molto banale di quello che si può fare per la verità lascia alla vostra fantasia la possibilità di esplorare nuove possibilità ce ne sono tante ve la butto lì così magari potete ragionarci sopra queste cose si possono fare tranquillamente in post produzione non è niente disconvolgente magari chi usa OBS è abituato ad utilizzare il vantaggio è che qui si utilizza l'hardware per fare queste cose e non il software il che significa che per me è un vantaggio enorme io non ho mai sopportato OBS e questi software non li ho mai usati per il semplice fatto che non ho voglia di avere un computer che magari mi serve per fare altro per andare in live leggere i commenti delle persone per proiettare appunto delle slide e nel frattempo la stessa macchina gestisce anche il flusso audio video scusate che perde di qualità passando dal computer e lo deve registrare le ventole partono entra nel microfono devo pulire il file audio devo fare un restauro audio no 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 questa scheda hardware mi permette di fare tutto via hardware in più cosa che probabilmente altri software non mi permettono di fare io posso avere la possibilità di avere un feedback visivo sullo schermo sul field monitor se volete di quello che mi sta succedendo intorno nel momento in cui introduco un chroma key ecco questa cosa adesso non vi dico le cose che si possono fare perché sono tantissime ma vi invito a spremere le meningi la creatività su questo fatto preciso mi sono reso conto solo ora di essermi dimenticato di una cosa che spero mi perdonerete ma che vi voglio subito dire perché avrei dovuto dirvela prima relativamente al file di da vinci resolve forse non vi siete accorti li avevo messi apposta per farveli vedere non tutto attenzione non tutto viene riportato esattamente come è stato programmato nel momento in cui avete registrato il video per esempio la funzionalità di picture in picture qui non viene riportata nel video originale che vi avevo fatto vedere quindi nell'output nel program questo qui a un certo punto io inserivo il picture in picture vedete eccolo lì in alto a destra sul video qui non è riportato questo è uno dei piccoli problemi che ha questa scheda cioè non esattamente tutto ciò che viene fatto in fase di registrazione viene riportato nel file di da vinci ma di base mi sembra che il picture in picture sia l'unica cosa che non viene riportata può essere un problema per qualcuno ma è giusto dirvelo ma bisogna tenerlo in considerazione questa cosa attenzione il picture in picture non viene riportato nel file di progetto di da vinci resolve questo è quello che vi volevo dire su questa fantastica scheda che al di là di questo piccolo problema rimane un prodotto straordinario straordinario e che apre possibilità creative infinite e soprattutto vi fa risparmiare una quantità di tempo che vale più del suo prezzo questo è senza dubbio vero per chi deve produrre tanti video perlomeno veniamo ai problemi alle cose che secondo me potrebbero essere migliorate più che veri e propri problemi di cosa si tratta si tratta in prima istanza del fatto che alcune impostazioni di questa scheda devono essere fatte via software il software che gira sul computer quello che vi abbiamo già fatto vedere l'altra volta avete già visto nell'altro video e il problema non è tanto questo cioè non è tanto il fatto che debba passare dal software anzi è un software ottimo fatto molto bene abbastanza intuitivo magari un po' ostico all'inizio ma una volta che si capiscono le sue logiche diventa intuitivo il problema è che ci sono alcune cose fantastiche che possono essere impostate per esempio io posso andare a personalizzare il picture in picture quindi l'immaginetta piccola della camera principale che viene portata nelle altre camere quindi quella che mi permette di mostrare appunto la mia faccia mentre l'immagine principale è sull'ospite può essere personalizzata nelle dimensioni non solo gli si può mettere un bordo un'ombreggiatura scegliere i colori di questo bordo di questa ombreggiatura scalarla spostarla metterla dove vogliamo ma tutte queste impostazioni vengono perse non appena si stacca questa scheda dal computer sarebbe invece fantastico poter per esempio dire che io tutti i picture in picture li voglio bordati di bianco e questa informazione viene salvata sulla scheda e quando la spengo e la riaccendo me la ritrovo già lì bella che pronta per essere utilizzata questo non si può fare e devo dire che so per certo che questa scheda ha una memoria non volatile quindi una memoria che non viene persa allo spegnimento perché altre cose invece le salva per esempio se gli dico che deve girare a 24 frame per secondo siccome si può scegliere quali sono i frame per secondo dell'uscita li impostiamo via software quell'informazione viene scritta una volta per poi essere mantenuta quindi se cambio gli fps li cambia stacco la scheda la spengo la metto in una settimana chiusa dentro una scatola buia senza corrente e la mantiene c'è una memoria non volatile altre impostazioni non funzionano così e sarebbe molto bello avercele magari questo si può anche risolvere via software io credo se la memoria non fosse sufficiente si potrebbe decidere che per esempio nell'hard disk viene scritto un file di configurazione che viene richiamato se l'hard disk quantomeno è attaccato riconosce quelle impostazioni e se le immagazzina e le utilizza di base questo purtroppo al momento non è possibile è un problema ma forse diciamo che sarebbe una di quelle cose che renderebbe l'utilizzo di questo oggetto ancora più nell'ottica di ridurre il tempo dedicato alla creazione dei video per lasciarlo al pensiero e alla creatività per chi non fa il videomaker di mestiere secondo me questa cosa è molto importante ed è poi il motivo per cui persone come me magari possono essere interessate a questa scheda tolto questo il resto non dà problemi è molto silenziosa gestisce molto bene le registrazioni che peraltro avvengono a qualità molto elevata è anche con diciamo un flusso di dati non indifferente è sempre una scheda 1080p però ogni singola traccia viene scritta a 44 megabyte megabit al secondo il che non è poco e attenzione dipende dalla velocità dell'hard disk cioè lui tenta di scrivere alla massima velocità possibile se poi l'hard disk fa da collo di bottiglia e quindi l'hard disk è un po' lento abbassa la qualità abbassa la quantità di dati che passano in ogni singolo secondo il che è il principale parametro posto che frame rate e risoluzioni sono noti 1920x1080 e il frame rate lo scegliete voi il parametro che determina la qualità del video è quanti dati passano ok qual è il flusso di dati e quindi chiaro che un hard disk lento rende i video registrati sul disco brutti rende li rende di qualità minore cioè iniziano a vedersi soprattutto magari sulle ombre come nel mio caso dove uno sfondo nero si iniziano a vedere i colori che si impastano si iniziano a vedere artefatti introdotti nella compressione è un problema quindi è molto importante associare a questa scheda un hard disk il più veloce possibile ma se vi associerete un hard disk molto veloce vedrete che la qualità di registrazione è veramente straordinaria lo stesso non si può dire della qualità invece che esce via usb ma d'altra parte questo è normale le schede di acquisizione una volta che le attaccate al computer molto spesso in questo modo la qualità decade ma è anche giusto così perché utilizzarla come scheda di acquisizione quindi come webcam tra virgolette e farla vedere da streamyard da OBS da qualsiasi altro software che è una cosa che si può tranquillamente fare però di solito ha lo scopo di andare in live e quindi ci si aspetta anche un abbassamento della qualità se volete avere la qualità massima io vi consiglio di nuovo un hard disk estremamente veloce o meglio ancora avere un registratore HDMI esterno che vi catture il flusso direttamente dell'output del program e ve lo salvi su una SD o su un hard disk anche a sua volta a seconda di che tipo di prodotto è questo era bene o male quello che mi ero segnato di dirvi che avevo intenzione di dirvi che secondo me era importante raccontarvi a proposito di questo strumento che per me personalmente rappresenta la svolta soprattutto ovviamente nella sua produzione del file di Da Vinci se avete qualsiasi domanda io verrò qui periodicamente sotto questo video a controllare i commenti potete tranquillamente scrivere un commento qui sotto il canale di Andrea che ringrazio di nuovo per avermi ospitato e ci leggiamo qua sotto e cercherò di chiarire per quanto mi sia possibile qualsiasi vostro dubbio grazie per avermi seguito ripasso la parola ad Andrea e ci vediamo spero presto magari vi porterò qualche altra notizia tecnologica su questo canale grazie e buona serata e che dire che dire ma grazie a te grazie a te Andrea molto interessante la sua esperienza con Ate Mini Pro ISO confermo e ribadisco quello che lui vi ha già detto scrivete nei commenti se avete dei dubbi delle domande delle perplessità come sapete io non ho sempre il tempo di rispondere a tutte però Andrea si è reso disponibile quindi confidiamo in lui ma io se ci sono degli elementi interessanti poi sapete che li uso anche per i video successivi o se aggiungete del valore con i vostri commenti questa è una parte a cui io tengo particolarmente sono gli unici commenti che cuoricizzo cioè quelli che aggiungono del contenuto ai video che realizzo in modo che le persone che piommano sui commenti poi trovano per primi le cose che magari integrano completano quello che ho raccontato e in questo caso abbiamo raccontato nei miei nei nostri video e allora ancora grazie ad Andrea vi ricordo che trovate il link al suo canale nella descrizione di questo video seguitelo se vi interessa l'attualità o e o se vi interessa vedere come mette in pratica le cose che vi ha raccontato in questo video io vi super ringrazio vi mando un abbraccione vi do appuntamento alla prossima